Scusate, scusate non c'è, come non mi conosci dai, Fabio III, scusate, è fatto tardi, scusate. Eccoci qui, ok, allora a questo punto ci siamo veramente tutti, direi, sì. Io mi sono sentito sempre un pochino in colpa nei confronti di Fabio Traversa, perché quelle poche volte che ci incontravamo lui mi diceva, certo tu mi hai affibbiato un personaggio, quello di Fabris, io attraverso la strada e mi dico, ah Fabris, è rifatta la carta di identità, si è peggiorato. Ah Fabris, non ti mette dei profili, è un continuo, dall'88 andiamo avanti così. Io dico, no, allora gli ho detto Fabio, io ti ringrazio perché hai fatto una bellissima interpretazione in compagno di scuola, però mi dispiace per tutto quello che è successo. Lui mi ha detto, ma no, ma guarda che è un piacere alla fine, perché sono diventato immortale. Ah, gli ho detto, guarda vai, ci incontreremo perché ti devo parlare. Allora ho voluto veramente scrivergli un bel ruolo, quasi per risarcirti, e devo dire che il ruolo è fantastico e lui l'ha svolto nel migliore dei modi. La serie è veramente una buona serie, ma credo che dalla quinta in poi, sesta in poi, improvvisamente ha una grande sterzata e diventa veramente qualcosa di diverso, grazie anche alla sua interpretazione e a tutto quello che succede tra me e lui, perché le cose non è che vanno tanto, tanto bene tra me e lui nella cosa, perché inizia la vendetta di Fabio e sarà una tragedia per me. È un po' uno squilibrato quando entra in scena, ma poi piano piano diventa ancora più squilibrato e avremo dei momenti anche drammatici, come insieme con Valerio abbiamo voluto girare quelle scene, un po' la Fris Lang, il bianco e il nero, quelle scene là, dove avviene una cosa che lui fa nei miei confronti è molto grave, è veramente di grande qualità, è recitativa e anche fotografica. Basta, ho detto tutto, ti ringrazio, ti voglio bene e grazie per essere stato con noi. Paio. Grazie, ha già detto riguardo al personaggio e non aggiungo altro, io però voglio dire che sono grato, profondamente grato a Carlo Verdone perché per questo diciamo anche rilancio artistico e perché lui è umanamente una bravissima persona, professionalmente inutile che aggiungo altro, se non un suggerimento che potrebbe essere anche un'idea, se qualora gli sceneggiatori non l'avessero già avuta, ma un'ennesima serie, lui potrebbe essere un ottimo allenatore per esempio della Roma perché ha questa capacità di motivare la sua troupe, i suoi attori e ottenere da loro veramente il meglio, sempre.